Quando entri in un posto che ha così tanta storia... È come essere in un luogo sacro. La gente vuole ancora venire qui. Cercano il sound di Abbey Road. Mi chiamo Mary. Gli studi di Abbey Road hanno sempre fatto parte della mia vita. Qui sono stati incisi tanti dischi colossali e nessuno riesce a credere che sia stato un puro caso. Vogliamo concentrarci sul lavoro in studio. Per noi era una casa. Ci passavamo tanto tempo. Avevamo usato un particolare... Eccolo lì! Dalla musica classica al pop. Tra queste mura gli artisti hanno ampliato i confini della creatività. Cosa stai facendo? È un uomo! Non posso farlo. Ha aperto la strada a uno dei più grandi cambiamenti nella musica. L'odore di Abbey Road per me è l'odore della paura. E se sbaglio tutto? Una grandissima parte dei dischi che ho comprato è stata incisa prima. È un anno disastroso per l'industria discografica. Le band degli anni 60 non vendono più. Lo studio uno restava vuoto anche per mesi. Sicuramente bisognava fare qualcosa, esplorare nuovi campi. Cosa c'è di meglio di Star Wars? È stato come aprire un regalo di Natale. Abbey Road è come un dono alla musica. Con The Dark Side of the Moon ho pensato ci siamo riusciti. Se non ci fosse stato lui avremmo fatto tre album. Ti fa venire voglia di creare qualcosa, di toccarne. Le pareti sono impregnate di grande musica. Se queste pareti potessero cantare... Grazie. 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 Grazie a tutti.